Ma benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Rambogamericana e oggi siamo qui ragazzi per scoprire la verità Beh, abbiamo ritrovato Zerbian? Zerbian è scomparso? Da nulla? Beh, oggi siamo qui ragazzi per scoprire la verità Ho cercato un po' su internet Zerbian è stato ritrovato E ragazzi mi sono usciti vari link, mi sono uscite varie cose E ho scoperto ragazzi alcune cose che veramente sono assurde, 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 assurde Infatti ragazzi prima appunto di vedervi il video vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram Vi lascerò il link in descrizione, vi terrò sempre aggiornati magari Vi terrò aggiornati sulle storie di Zerbian, magari su qualche notizia di Zerbian E non so, se troverò qualche altra cosa magari oggi farò un video o vi terrò aggiornati su Instagram Quindi seguitemi che vi terrò lì aggiornati Allora ragazzi cercando, facendo alcune ricerche su Google Ho trovato un link abbastanza interessante Quale? Il primo link ragazzi Ma vi spiegherò ragazzi il perché Zerbian sta facendo tutto ciò Voi mi state chiedendo perché Zerbian sta facendo tutto ciò? È scomparso realmente? Probabile di sì? I genitori realmente sono preoccupati? Oppure è tutta una finzione? Quello che si stanno chiedendo tutti E ragazzi Mi sa mi sa che abbiamo proprio scoperto ragazzi la verità E la verità ragazzi è questa qui Adesso vi faccio subito vedere Guardate qui Zerbian, Luca Esposito, è sparito L'appello dei genitori Andando ragazzi, aspettate un attimo Ok Guardate qui ragazzi Zerbian, Luca Esposito, è sparito Non è tutto fake Lo youtuber Zerbian Al secolo Luca Esposito, è sparito I genitori hanno lanciato un appello sui social Ok Già ragazzi questa partendo dall'appello sui social Già possiamo dire anche che Zerbian nell'ultimo periodo Stava facendo veramente un calo assurdo di views E quindi diciamo questo sarebbe anche un modo giusto Avrebbe trovato l'opportunità Per comunque mettere un hype assurdo su tutta YouTube E riprendersi comunque tutte le sue views Tutti i suoi follower Che comunque non lo seguivano più E riprendersi tutti i suoi Appunto tutti i suoi soldi di nuovo Perché come ben sapete almeno penso Che ovviamente più views fate E più ovviamente guadagnate Ovviamente in base a tutti i video In base a tutte le cose Lui visto che stava calando Visto che forse i soldi erano molto bassi Comunque veramente una paga molto bassa Ha deciso magari di mettere questo hype Comunque passiamo al dunque Cosa è successo a Luca Esposito Conosciuto da tutti ovviamente Zerbian Un youtuber che ha più di 600.000 iscritti E' sparito Questo è perlomeno quello che hanno rivelato I suoi genitori su Instagram Ok ragazzi Passiamo avanti Vabbè questo è tutto quello che accade Cioè appunto tutto quello che è accaduto In realtà la notizia appare molto strana Ovviamente più motivi Ragazzi leggiamo bene e ascoltate bene E infatti molti youtuber Stanno pubblicando dei video su youtube Per smascherare il collega O comunque cercare di far chiarezza Giustamente ragazzi Tutta youtube a parlare di questo Zerbian La scomparsa di Zerbian Ragazzi giustamente lui si è preso anche Tutte le views Si è rifatto tutto Anche se penso questa cosa Non durerà molto a lungo Io almeno così la penso Perché va giustamente Mettete il caso ragazzi Che si viene a smascherare Tutta la verità Tutto youtube viene a sapere questa verità Ragazzi penso che veramente Perderà tanti di quegli iscritti Che boh Comunque Si dice che Luca sia stato avvistato In un benzinaio Ragazzi ma non è vero Perché questo benzinaio Queste foto appunto Come sta scritto anche qui Sono vecchissime Del 2016 Quindi sono notizie fake Comunque Quindi non Cioè non sarà vero E ragazzi Eccoci qui Eccoci qui Ecco i punti per cui appunto Potrebbe essere tutto fake Ecco pure qua lo dice Se un figlio scompare Quello che io ho detto Nel video precedente Non si aspettano 12 ore Per avvertire la polizia Cioè Se un vostro figlio ragazzi Comparirebbe così dal nulla Io non so Su youtube a farmi un video Ragazzi è scomparso mio figlio No Io subito avrei andato Cioè Subito sarei andato proprio al punto Diretto Punto 2 Zerbian ha fatto spesso Dei prank Su youtube E ragazzi Infatti guardate Come vi dico sempre Anche nel video precedente Se ancora dovete andare a vedere Andatelo a vedere Anche se Mettere In allarme I propri iscritti Non è uno scherzo Di buon gusto E' vero ragazzi Perché comunque Chi lo segue Ci tiene realmente E' veramente bruttissimo Comunque è uno scherzo Bruttissimo E non è anche stupido Terza cosa Nella giornata di oggi Luca ragazzi Come Stava girando anche su tutto Google Luca Ha messo like E poi l'ha tolto A un posto di Alice De Bartoli Raga penso che ormai La conoscete De Bartoli Inoltre ragazzi Ascoltate bene Guardate qui Inoltre Indagando Abbiamo scoperto Che a breve Dovrebbe Uscire Un libro Dello youtuber Intitolato Corsa delle origini Che sia una campagna Promozionale Per il libro Quindi ragazzi Tutto ciò Tutto questo Hype Che voi dovete Spammare Dappertutto Ovunque questo video Dobbiamo far arrivare La verità Veramente Dappertutto Si è fatto solo Per creare Questo libro Ragazzi Capite ragazzi Anche per dare valore A questo libro E per fare Comunque più Vendite su questo libro E tutto un hype Ragazzi Diciamo che gira Tutto intorno ai soldi Ecco Perché giustamente Ragazzi Sembrava strano Che comunque Come dire Cioè Com'è possibile Che da nulla Questo zebbia Ne veniva rapito Quindi Boh Sembra molto strano Come cosa Come potete capire Dai vari video Che ci sono Comunque su youtube Ragazzi È tutta una finzione Quindi non credere Cioè basta Ragazzi Conclude qui E veramente Questo argomento Sta andando avanti 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 Ormai la verità Si sa Quindi condividete Questo video Dappertutto Ragazzi Spammatelo Con tutti i vostri Amici Gruppi Veramente Fatelo arrivare Dappertutto Ma soprattutto Lasciate un bel like Ragazzi Un bel like Per supportare Questo video E soprattutto Per farlo arrivare In alto Ragazzi Quindi dai Tutti un bel like Ovviamente Fatemi sapere voi La vostra Come la pensate Sotto nei commenti Che vi rispondo A tutti Quindi commentate Sotto nei commenti Voglio sapere la vostra Cosa ne pensate E niente Ragazzi Vediamo un po' Grazie